Lasciate che il vostro officiante, ma io direi anche il vostro amico, ma io direi anche per quanto concerne il caro Giovannino e il tuo caro zio, dica due parole, due dettate, ahimè, dall'avetusta saggezza e dall'amore che ha sempre nutrito per voi questo mio povero cuore. Ora preghiamo tutti quanti insieme dicendo, ascoltaci oh Signore, affinché le unioni siano sempre più solide del reciclo con rispetto preghiamo, per Giovannino e Valeriana affinché siano di cristiano esempio, ai loro futuri figli preghiamo, ascoltaci oh Signore, usso è undici e venti, e come se va? Preghiamo, ascoltaci oh Signore, per coloro che sarebbero dovuti essere qui, ma non sono proprio qui, perché sono stati chiamati da Nostro Signore. Ma chi c'entra di morti? Filippina e Fernanda Moiani, Aldo e Gastone Schiavina, Tiziano e Falmina Ceresio preghiamo, ascoltaci oh Signore, per la famiglia di tutti i parenti degli sposi, iniziando da Domenica e Loredana, il piccolo Severiano e Giada, quest'ultima ricoverata del reparto intensivo del Gemelli, preghiamo, ascoltaci oh Signore, per la famiglia di Valeriana, nelle persone del papà Clerio, della sorella Gloria, del cognato Stefano, della zia Viera, di tutti i secondi gradi, io sono pure la famiglia numerosa, la famiglia di Masi, se essa è saporito, preghiamo, ascoltaci oh Signore.